ci tengo perché c'è tanta gente che magari anch'io ultimamente ho giocato bene quindi c'è tanta gente che lavora sempre bene perché se riusciamo a stare bene fisicamente anche metodo di chi non gioca perché una settimana va sempre a 2.000 quindi riusciamo a avere altre indesiderate agli allenamenti quindi secondo me quando si vince non si vince perché ha segnalato Monachello ha segnalato Spagnolo si vince perché è un lavoro che c'è dietro secondo me di squadra l'esperienza mi insegna questo che siamo noi ogni giorno alla fine che siamo una diventiamo davvero una famiglia perché siamo sempre insieme grazie grazie al ragazzino magari come va a carica so come entra con l'esordio che si allena a 2.000 quindi diciamo che per me è importante andare verso la panchina perché lavoriamo ogni giorno per questo sì diciamo che siamo molte fiducia adesso finalmente stiamo credendo nelle ultime partite nelle nostre potenzialità siamo sul pezzo siamo aggressivi andiamo su tutti i palloni chiunque entra magari dice sempre la sua come si è visto anche al salò che subentrati lo stesso De Sandris che magari era appena entrare alla prima volta era sul pezzo Varutti mi ricorda salò ma anche io sono entrato secondo me con lo spirito giusto quindi alla fine questo è sinonimo di grande squadra ciao